Signore e signori, buonasera, questo è House Flipper 2 e ce la sentiamo un botto di andare avanti con le missioni fino a che non avremo raggiunto, non lo so, non lo so, vorrei flippare la mia prima casa e poi flipparne altre, è anche il senso del gioco in effetti, ho sbaglio, sì, no, c'ho ragione, c'ho ragione. Allora, andiamo dritti a fare una bella missione, che tu dici, io dico sì, allora abbiamo qui il postumi di una festa, guarda, i Mewing Stones, che saranno da ben di gatti, hanno tenuto un concerto nel mio garage, riesci a immaginare, beh oddio, non deve essere stato male, pulire non è qualcosa che sto aspettando, vabbè, easy, la traduzione qui non è un granché, è il momento perfetto per modernizzare un po' gli interni. Nuovo punto di soggiorno, avevo, aver messo in, vabbè, questa cosa, non lo so, non mi interessa moltissimo, vediamo di qui cosa dice, muri, muri danneggiati, piastrelle, ok, facciamo questo, perché l'altro mi sembrava un po' più chill, magari la faccio addirittura off camera, perché tanto pulire, fare cose così, invece guarda che bello, qua siamo sempre alla nostra, posso aprire la mappa? No. Come si chiama questo posto? Non me lo dice, vero? Pindakov, no? Ok, vabbè, ma che bella sta casa, perché a me, no, è più bella questa, più bella questa, vabbè, allora, entriamo, che bella questa porta. Allora, non ho ben capito cos'è che devo fare, ma penso che la mia pagina missione me lo possa dire. Allora, devo vendere tutto, beh, mica male. Finitura surpici, che cazzo è? Superfici, pittura, vendiamo tutto, vendiamo tutto quello che mi fa vendere, i puff, i pesi no, eh, a quanto pare l'allenamento è importante qui, eh, noi siamo in California, sembrerebbe di sì. Tutta la cucina vuole rimodernare il bro, ma quanti soldi ho? È sempre i 23k, non è sempre, no, aspetta, com'è? Ah no, questo è il mio budget, ok, ok, ora si spiega tutto. Posso aprire anche la finestra qui? Posso vendere ste robe? No. Vabbè, ma in realtà non mi sembra, ora, non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma non mi sembra troppo complicato, a meno che io non debba fare dei lavoroni di quelli proprio insensati, vabbè, qua devo pulire un pochino, c'è il calcare, niente di troppo difficile. Qua bisogna cambiare qualcosa? Le piante? No. Cosa bisogna fare? Ah, bisogna rifinire le superfici. Non so di preciso cosa voglia dire, ma finché abbiamo venduto tutto, direi che siamo a posto. Il tipo vuole una doccia? Qui è venuto tutto? Io ti direi di sì. Quindi potrei o acquistare o prima, beh, prima diamo una pulita generale, che dici? A me sembra un'ottima idea, guarda qua che sporco che si è creato. Ora mi chiederò a fare i tutorial di pulizia della vita reale, ma per il meme? No, forse è meglio di no. Su TikTok? Su TikTok potrei, tanto su TikTok se puoi fare il caso che vuoi. Qui non inizia da pulire, il bagno sì, perché qua bisogna mettere la doccia, bisogna pulire un po'. Oh, tanto sto cambiando il bagno anche di casa mia nella vita reale, tra l'altro, tra le altre cose, mi sembrava giusto dirlo. Senti, rifinisci le superfici, va bene. Pilla di mattonelle della metropolitana, ma come? Vabbè. Rotazione, dimensione, ma no, teniamo quelle standard. Colore, teniamo quelle standard. Senti, ma per terra? Non ho capito. Acquista. Acquistiamole. E mo? Ok, mi dice lui dove devo metterlo, che già è una cosa molto positiva. Ah, quindi niente, devo piazzare? Vabbè, fortunatamente molto più semplice di quel che potesse sembrare in precedenza. Anzi, molto più semplice questo, sembra di giocare un po' a Tetris, piuttosto che quello con la pittura, che era uno sbatto incredibile. Poi, immagino che anche qui io possa avere dei bonus. Immagino, perché è una parola chiave. Allora, mettiamo la nostra doccetta, la mettiamo qui, la mettiamo, giriamola, posso girarla? Non mi fa girare mica. Mettiamola così? Beh, non mi sembra molto sensato, forse dovevo girarla un pochino, tipo così. Ah, ora sì che prima no. Bellina, una bella walk-in. Bella, cazzo, proprio bella come l'ho accettata l'altro. Ok, io volevo farla così in casa mia, ma per farla così devo cambiare tutti gli impianti, raga, costa una fucilata. Mi hanno fatto un preventivo che ho detto, no, no, lascia stare. Allora, ecco, questo ma mi dici tu dove devo metterle io sta roba? No, perché altrimenti è un casino. Ok, e mo? Compriamo anche questa. Tanto bisogna prenderle tutte e due. Ok, e mo? Eh, io seleziono questo e la metto qua? Mettiamola qua. Ma guarda, mettiamo questa intanto. Non può perché non posso ottenere il premuto? Sarebbe molto più semplice. Poi mi avanza un botto di roba. Oh, cazzo, quale avevo scelto? Questa? No, ho sbagliato. Vabbè, sti cazzi. Questa? Dove la devo mettere? Ma niente, ok, bastava comprarla a quanto pare. Di qui invece, ecco, di qua bisogna fare un po' un lavoretto. Rifinisci superfici. Top, easy, parche finto? Si fa tutto. Tutto si fa. Va che bello. Poi non so neanche se è parche finto o se non è parche vero. Non lo so, non lo so. Ci interessa? Direi di no. Oh, va che bellino. Poi, il muro. Che fai? Il muro? No, non è rifinitura, è pittura. Pitturiamo. Che problemi non ce n'è. Ma qua, allora no, devo selezionare però la zona di pittura, se no è un casino. Ok. Allora, riesco a farlo tipo da lì in alto fino a qui in basso. Grazie bro. Ma io voglio un pennellone enorme. Posso averlo? Sarebbe comodo. Ma che va qua. Può compilare l'incarico, ma devi stare molto calmo bro. Devi stare molto calmo. È vero che non c'è molta voglia di comprare le cose, però se ci dà poi gli sconti possiamo guadagnare di più, flippare più case. Le piazziamo a caso piuttosto, che almeno ci dà tre stelle e abbiamo più soldi. Che poi non so se i soldi che ci dà è il budget che riusciamo a... No, non credo. Uh, punto pittura. Si gode. Si gode. Allora, vediamo cosa fa il punto pittura. Allora, il ruler utilizza meno vernice. Top. Oppure questo... Uh, bellissimo. Espandiamo. Come faccio a... Eh, ma non si espande mica. No, mi hanno mentito. No, scusami, mi hanno mentito davvero. Cambia misure. Uh, ah, 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 bellissimo. Bellissimo. Top. Fatto? Andiamo in sommissioni. Ok, devo levare altre macchie però a quanto pare. Va bene. Dove le vedi? Dimmi dove le vedi. Io... Oh, guarda qua. C'era un po' di disastro. Forse devo levarlo prima... Mmm... Devo levarlo prima di mettere il pavimento. Probabile? Altamente probabile. Fatto una cappellata? Altamente probabile. Nuovamente. Eh, lo so. Succede spesso. Andiamo una spolverata comunque un po' a giro. Che magari qualche macchietta ci siamo persi. Eh, che ti dodi? Dove andare così. Hai, le macchine non riusciremo a farle tutte, però possiamo comprare le cose. Allora, cos'è questo? Questo è un frigo, tipo? No, non so se è un frigo. Senti, mettiamolo qua. Nell'angolino. Bel tavolone. L'ottiamo di qua. Quattro sedie. Uno. Due. E quattro. Questo che cazzo è? Ma. Mettiamolo qua. E questa? È un comodino. Abbiamo fatto tutto? Tre stelle. Incredibile. Anche se mi mancava la macchia. Top. Completa. 7K. Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Erano meglio 10. Però non ci lamentiamo. Che tra l'altro, mi viene il dubbio. Posso montare altre cose? No. Per caso. Sarebbe stato bello. Secchie. Andiamo avanti. Piccola casa del nuovare. Eccolo qua. Un uccellino mi ha detto che stai sfondando a Pinnakov. È quello che sto facendo. Il mio primo vero house flip. Top. Allora. Da capire. Oh la madonna. Ma che è successo qui? Altro che house flip. Qua bisogna fare un condono, edilizio. Disastro. Vabbè. Allora. Facciamo una bella passata. Beh. Almeno ci sono due piani. Che schifo. Che è successo qua? Allora. Buttiamo le cose che mi fa buttare. Per favore. E poi. E poi boh. Fortunatamente non è un vero e proprio house flip. Perché. È una missione. E quindi. Quando finisco le cose. Poi. Il bro può fare tutto. Qua c'è da aspirare la vita. Aspirare tutto. 161 unità da aspirare. Un botto. Allora. Molto rapidamente. Andiamo a. Tutta sta roba qui. A levarla. A pulire un pochino. Notare che qui le missioni sono belle lunghe. Cioè. Non ho fatto neanche. L'inizio. Di questa casa qua. L'inizio. Allora. Che dite? Andiamo in giro prima a vendere tutto quello che possiamo vendere. Se non me ha molto senso. Cioè. Liberiamoci. Vogliamo guardare dentro? Tocca. Ah. Madonna mia. Che è successo? Questa è muffa. Non è sporco. E poi io vorrei sapere chi è che le compra queste cose. Perché. Onestamente. Sembra anche esagerato. Apriamo le. Oddio. Era un ritrovo di. Alcolisti. Drogati. L'unica spiegazione. Bagno rosa. Magari. Un po' too much. Ok. Allora. A vendere. Se non me abbiamo venduto. Sicuramente manca qualcosina. Però. Un buon inizio. No? I vasi pure. Top. Le luci? No. Non ce le fa vendere. Beh. Comunque come casa non è brutta. Però bisogna flipparla nel vero senso della parola. Questa. Cosa vuole far vendere? I fazzolettini. Non ho capito cazzo. Allora. Fortunatamente possiamo buttare le cose a velocità della luce. Ora con il nostro upgrade. Si butta tutta sta merda qua. Guarda qua. Via via. Butta butta. Ok. Minchè sta missione è bella lunga. Guarda lì la barra. Vuoi fare una marea di roba. Che giustamente qui finché non arredi le stelle non vanno avanti. Cioè puoi anche presentaglia tutta sporca. Però. Senza arredo lì non può flipparla giustamente. Ok. Ora. Bella finestrata. Quanto va veloce ora? Molto più snello. No no. Volevo pulire bro. Enorme questa. Vieni giù. Sali su. Vai giù di nuovo. Bellissimo. Ah. Incrowable. Ok. Anche il muro l'abbiamo bello pulito. E ci siamo. Di qua. Eh. Bisogna fare la stessa cosa. Tutta sta muffona. Tutto sporco. Anche lì in alto. Via. Dai va. Quante infiltrazioni. Ok. Già rispetto a cinque minuti fa. È tutta un'altra cosa. Che perlomeno è pulito. Cioè pulito. Deve essere molto peggio eh. Qui possono vendere robe eh. Vendi tutto. Vendi tutto. L'albero. Bello che posso vendere l'albero. Esattamente ciò che volevo fare. Vendere alberi. Perché tutti hanno così tanti pneumatici in giro? Io. Vabbè. Non me lo so spiegare. Ora il graffito andrà. Con che facilità va via il graffito. Vabbè. Potremmo andarci molto peggio. Ok. Ora che è tutto pulito. Abbastanza pulito. Una volta arredato. Secondo me passiamo da non aver fatto praticamente nulla. A livello di progresso. A uno, due, tre stelle. Molto molto rapidamente. Questi posso vendere lì. Sono bruttissimi. Grazie. Qui sopra posso vendere altro? No. Dai. Allora iniziamo ad arredare. Allora bisogna comprare dell'esdraio. Due si è detto. Giusto? Ne mettiamo una qua e una qua. Un tavolino. Si mette vicino l'esdraio. 12 piantone. Sono tante il cazzo 12. Allora facciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ci sta dieci? No. Tiamo di qua. Uno, due, tre. Perfetto. Sei di queste. No problem. Uno, due, tre. Uno, due e tre. E le piantine fresche ce le abbiamo. Poi cresceranno immagino. Cioè voglio sperare. Questo è un bel gazebone. Oh bello. Che copie la finestra. Magari non è molto sensata questa cosa. Giriamolo. Lo mettiamo di qua. Oh bello. Ok. E già così ci è salito un bot la barra. Poi di qui si è detto. Un tavolino con due sedie. Easy. Mettiamo il tavolino. Bello nell'angolino così. Due sedioline. Una. Ah sono proprio sedie tipo dondolino. Cioè non ha dondolo però. Ce le facciamo andare bene lo stesso. Si entra. Ora qui secondo me bisogna anche rifare un po'. No bisogna ridare e basta. Ah no vedi? Bisogna rifinire. E allora rifiniamo figa. Rifiniamo tutto. Oh ho comprato troppo. Mi sembra che ho comprato troppo davvero. Cambia misura? Ah no no dai facciamo grande. Oh questo sta esagerando un po'. Vabbè è un po' tipo Picasso capito? Ci sta che sia un po' così. Ok. Ok fantastico. C'è la stessa cosa con. Ah no niente. Come ho detto. Un po' strano. È un po' strano in effetti. Veniamo quello che avanza. Allora tavolino da caffè. E questo lo mettiamo qui. Se lo mettiamo da caffè la tv. C'è una tv? Cazzo non c'è la tv. È male. Cosa ci metto se lo tavolino da caffè? Non so. Vediamo un forno. Mettiamo qua. Questo lo mettiamo di qua. Carino. Il frigo. Il frigo lo mettiamo qua nell'angolo. Tipo un po' spartano. Che divide la cucina dalla zona giorno. Lo sto inventando eh però. Pensile. Pensile lo mettiamo qui. Perfetto. Ah ce ne servono due di questi. Ah uno. Due. Perfetto. Mobiletto. E mobiletto ne mettiamo uno qui. Uno qui. Anzi forse conviene spostare questo un po' più di qua. E questo un po' più di qua. Va che bellino. Un bel piano di induzione qua sopra. Che è a regola. Lo scolapiatti. Beh per lo scolapiatti avrò bisogno anche del lavandino. Lo sbaglio. A quanto pare. Lo sbaglio. Questo lo mettiamo di qua. Piccolino. Questo lo mettiamo di qua. Sempre piccolino. Bellino. Nell'angolo. Ah mettiamo questo qua ad angolo. Giustamente. Ci entra? Urca. Non ci entra. Allora è un peccato che non ci entri. Quindi facciamo che questo lo spostiamo leggermente più a sinistra. E anche questo lo spostiamo leggermente più a sinistra. Se no non regge il gioco. Perfetto. Allora il pensile. Vediamo se ci entra ora. Giralo. Giralo. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. No figa. Colpa di questo mi sa eh. No comunque non ci entra. È male. È allora un po' Picasso. Sto avendo un po' una cacata. Scolapiatti. Certamente lo si mette qua sopra. Divano. Serve. Senza divano. Come fai? Lo mettiamo. Di qui. No. Troppo. Mettiamo di qua. È un po' difficile eh. Come cazzo lo metto? Questa roba. Il fiore vuole pure il bro. Non ha capito. Non ha capito qua. Non ha capito il gioco. Mettiamo alla libreria. Marchetta e caffè. C'è spazio in cucina? Mettiamo qui. Girala. Perfetto. Il laptop sul divano posso? Grande. Laptop sul divano fa molto California. lampada e la posso appenderla? No. Non è realistico. Come in Minecraft. Guardi queste ne prendiamo un paio magari eh. Possiamo anche accenderla. Che goduria. Contenitore per il pane e questo lo mettiamo ehm per terra? Sopra sopra piano induzione. Questo è quanto signori. Aspetta che abbiamo piazzato un mobiletto al contrario. Boom. Perfetto. Così questo possiamo spostare e lo mettiamo qua. Cos'altro dovevo può... Ah cazzo ecco lo lavandino. Mannaggia. Mi ho scordato. Lo mettiamo... Ci entra? Ci entrerebbe. Guarda lo mettiamo qui un secondo e spostiamo questo e lo mettiamo di qua. a questo punto. Giusto? Ok. Questo lo mettiamo di qua. Perfetto. Bello. Bello. Cioè bello no però. Non brutto. Guarda questo spostiamolo non mi piace. Lo mettiamolo qua sotto. Ci entra? Non ci entra. Lo devo avere per forza sto coso. Vabbè mettiamolo in alto e spostiamo il frigo da questo lato. Me lo fai mettere? Ci entra? Dai che ci entra. Dai che ci entra. Dai che ci entra. Boom. Perfetto. Eh così ha un po' più senso. Serie d'ufficio. Questa non so dove cazzo tu te la voglia mettere onestamente. Mettiamola qua. Poi serie d'ufficio senza scrivania? Che senso ha? Scaffale. Scaffale lo mettiamo qua. Sì vabbè poi magari se la riedano eh. Che dici? Se a me se la riedano quando la comprano. Allora puliamo tutto che qua il bagno è un casino. Davvero un casinatissimo. Anche la finestrella. Et voilà. Ok. Ora per arrivare qui. Ah bisogna rifare le superfici? Si vola. Cosa scegliamo? Pietra. Top. Ah finitura e superficie abbiamo un bonus. Che cosa mi fai fare? Puoi trasportare più piastrelle. Oppure fare cose in grande. Ma come godo. Vai. Ah però cazzo finisce subito le cose. Vabbè ce la facciamo andare bene lo stesso. Ce la facciamo andare bene lo stesso. Non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo. I like it Picasso. Eh? Eh? Ma che stile? Aspetta che manca una parte. Pam. Pam. Picasso. Poi mettiamo un bel box doccia. Qui. Ci entra? Per forza. No. Dobbiamo vendere questo. Ok. Cosa altro posso vendere? Beh non c'è molto. Ah. Questi cazzo tre cosettini. Mi vuoi dire? Maledetto. Allora mettiamo la doccia qui. Non mi fa mettere la doccia perché c'è la spazzatura? Io mi incazzo. Ti giuro ora mi incazzo. Putta sta merda. Ok la doccia ce l'abbiamo. Lo specchio lo si mette qui. Sotto lo specchio il lavandino. Così. E il gabinetto accanto? Sì dai accanto il bidet. C'è il bidet. Vabbè. Che ti devo dire? Facciamo andare bene. Ora. Cosa manca? Manca la stanza da letto. Importantissima la stanza da letto. Allora qui c'era qualche rifinitura da fare. Siamo messi pittura addirittura. Ma guarda ora che abbiamo modo di pitturare ciò che voglio pitturare senza sbatti. Mica ma un piacere pitturare altro che. Allora. Prima dobbiamo selezionare la zona. Diciamo così. Poi ci mettiamo lontani. Tengo premuto. Va che bello. E non è ancora il massimo. Secondo me si può ingrandire ancora di più. Oh. Abbiamo fitto la vernice. Ma non è un problema. Altanto abbiamo raggiunto una stellina. Quindi potremmo anche stopparlo qui ma non lo stopperemo qui. Prima gliela finiamo la casetta. Manca solo il letto praticamente. Vernice saurita. No problem bro. Et voilà. Stessa cosa di qui. Allora. Come faccio? Per favore. No. Fermo lì. No. Fermo. Che cazzo fai? No. Fermo lì. Porca caccia vacca. Domanda. Ora mi fa dipingere anche la finestra? Giustamente no. Non so perché non c'avevo un po' il dubbio. Oh. Bello. Bello. Mi piace. Tendiamo la vernice. Tanto non ci serve più. Perfetto. Ora lettone. Il lettone si mette con la stessa filosofia di prima. Quindi un bel letto qui. Bel comodino. Bello grande. Per il settimino. Il famoso settimino. La sveglia si mette qua. Così ti devi alzare dal letto per accenderla eh. Non è che ti faccio le cose semplici. Un pezzo di merda. Non so con chi ce l'ho. Questo mettiamo bella qua. Bello. Bello. Stavendo carino eh. Un bel comodino. Poteva avere senso metterlo lì. Lo metteremo di qua. È una stanza un po' non convenzionale insomma. Cosa vuoi che ti dica? Uno bello specchio. Così puoi controllare l'outfit quando te ne vai di casa. Cioè subito appena la vedi. Appena l'hai comprata. Te ne vai. Vuoi scappare. E delle piantine. Top. Perché le piantine non si sa. Però noi le compriamo. Sarebbe da mettere nei vasi? Sì. Ci rispettiamo il cazzo? Sì. Ma che bello. La lampada. Sempre qua diciamo la sveglia. Iiii. Un'ultima piantina. Et voilà. Ora. Cosa manca? Manca qualcosa in soggiorno palese. E mancano un po' di cose sì. Senti. Piazziamole. Anche qui. Ah ecco la scrivania dove cazzo era. Vediamo questo. Mettiamolo qua. Visto che non c'è la tv. Cioè non è che ci interessa molto. Avere il divano in una posizione comoda. Giusto? Questo è il cazzo è. No bello. Si può mettere anche sulla sbarra. Bellissimo. Che dettaglione. Allora. Rispetto a com'era dieci minuti fa. Devo dire che. Poteva andare molto peggio. E questo abbiamo fatta. Tre stelle. Di lusso. Cosa manca qui? Qualcosa manca. Macchie. No eh. No. Non ti credo. Dove le hai viste? Gran figlio di buona donna. Ah ah ah. Eccole. 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 Mancano due. Saranno di qua. Non vedete le macchie? No dai. Dai. Levate tutte. Penso di merda. Dove le ha viste queste qua le macchie? Io. Questa non è una macchia. Cos'è sto rumore sottofondo? Dovrebbe essere l'oceano? Beh. È venuto un po' di merda. No ragazzi. Non. Non lo troverò mai. Queste due macchine scoperte. Doveva andare così. Va bene. Questo è stato il nostro primo house flip. Che è stato un bel lavorone. Tre stelle. Quindi spero. Guadagnerai. 25.800 euro. Beh. Perché non dovrei volerlo completare? Perdonami. Perché mancano due macchiette? Sti pezzi di merda. Dove sono? O c'è qualcosa di nascosto che mi son perso. Buttiamo via l'immondizia. Che magari davvero mi son perso qualche macchietta random. Oh. Oh. Ah. Ah. Completato. Top. C'era uno sputacchio. Perfetto. E questo è il massimo che potevo fare. Figa. Quasi 30k. Mica male. Top. Accettiamo. Ah. Bello. Tom Marino. Grande Tom Marino. Vieni qua. Rispondi. Ciao bello. Come è stato il mio primo flip? Guarda. La casa era un po' particolare. Era una casa galleggiante. Oh. Per quello era pieno di alghe. Vabbè. Non mi interessa. Ok. Basta. L'hai venduta? Io voglio sapere solo quello. Beh. Certo bro. Con 91.000 monete penso che potremmo effettivamente comprare la nostra prima casa e fare il nostro vero flip. Uh. Vuoi dare dei soldi? Top. Quanto vuoi dare? Bello. Aspetta bro. Dammi soldi. Dammi soldi. Quanti soldi mi dà? Uh. Ok. Eh. Però non mi ha condiviso parte del guadagno. Bastardo. Dice che fai una cosa e poi non la fai? Mi hai detto. Vabbè. Comunque. Per il momento è tutto. Signore e signori. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Io vi saluto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.